Nel video precedente abbiamo visto come è cambiato il clima sulla Terra dall'epoca più antica ai fini giorni nostri. La Terra infatti ha 4,5 miliardi di anni e la paleoclimatologia è arrivata a studiare il clima della Terra fino a circa 2 miliardi e mezzo di anni or sono. Si sono potuti quindi individuare dei cicli climatici precisi che si ripetono nel tempo con intervalli abbastanza regolari. Tra i vari cicli si distinguono quelli che hanno una durata di milioni di anni, le cosiddette ere glaciali separate da ere interglaciali e quelli che durano solo decine o centinaia di migliaia di anni sono detti periodi glaciali o periodi interglaciali. Infine ci sono anche quelli di durata ancora minore che si susseguono più velocemente, hanno durata di poche migliaia di anni o addirittura poche centinaia di anni come ad esempio la famosa piccola era glaciale che si è sviluppata tra il 1400 e il 1700. L'idea di aver ricostruito la storia climatica del nostro pianeta può suscitare qualche diffidenza, può infatti venire il dubbio che si tratti solo di speculazioni teoriche prive di fondamento. Invece la paleoclimatologia progredisce sulla base di ricerche accurate, i dati sono presi in modo meticoloso e si dà grandissima importanza anche alle incertezze che danno questi dati, quindi i risultati sono oggettivi e raggiunti col cosiddetto metodo scientifico. Oggetto di questo video è proprio parlare di questi studi, di questi metodi che sono basati sostanzialmente sullo studio delle cosiddette proxy serie, cioè delle serie storiche relative a variabili fisiche, come ad esempio le concentrazioni di ossigeno 16 e ossigeno 18 nelle carote glaciali, oppure biologiche come i pollini, le cerche di accrescimento degli alberi, i fossili, eccetera. E tutte queste serie sono in qualche misura legate alle variabili climatiche. L'elemento chiave per comprendere questi studi è sapere che gli elementi chimici possono essere rappresentati da più isotopi, ovvero ci sono atomi di uno stesso elemento caratterizzati da un diverso numero di neutroni nel nucleo. Molti di voi conosceranno la tavola periodica degli elementi, esiste però anche la tavola dei nucleidi dove sono rappresentati tutti questi isotopi che sono migliaia e migliaia e li potete vedere in questa tabella, però solo alcuni sono stabili, che sono quelli rappresentati in nero. Gli isotopi stabili sono 270 circa. Se facciamo uno zoom nella tavola dei nucleidi possiamo osservare che l'ossigeno ha tre isotopi stabili, che sono l'ossigeno 16, l'ossigeno 17 e l'ossigeno 18. Cosa vuol dire questo? Allora l'ossigeno ha sempre 8 protoni, se ha anche 8 neutroni è ossigeno 16, se ha 9 neutroni è ossigeno 17 e se ha 10 neutroni è ossigeno 18, perché 8 più 10 fa 18. Le concentrazioni su scala globale però sono molto diverse, l'ossigeno 16 è quello dominante, oltre il 99%, l'ossigeno 17 è molto raro 0,038%, l'ossigeno 18 è anche abbastanza raro 0,2%. Ne consegue quindi che le molecole non hanno tutte la stessa massa. Consideriamo ad esempio la molecola d'acqua H2O, anche l'idrogeno ha due isotopi, quello tradizionale è un solo protone che si chiama idrogeno, poi c'è l'idrogeno 2 che però viene chiamato deuterio, che è un protone e un neutrone ed è molto raro. Quindi possiamo avere diversi tipi di molecole d'acqua, quella più comune è con l'ossigeno 16 e 2 idrogeno 1 e quindi avrà una massa complessiva di 18. Però esistono anche molecole con l'ossigeno 17 o con l'ossigeno 18, oppure con un atomo di deuterio. Ci potrebbero anche essere molecole con due atomi rari, però chiaramente sono estremamente rare, quindi non le abbiamo considerate. Le due molecole più significative sono quella con l'ossigeno 16 e quella con l'ossigeno 18, perché la differenza di massa è maggiore, si passa da 18 a 20, e poi è quella un po' meno rara, perché se guardiamo queste percentuali l'ossigeno 18 è l'unico presente in percentuali significative, l'ossigeno 17 è molto raro e anche il deuterio è molto raro. Quindi trascurando i casi più rari possiamo dire che sul pianeta Terra ci sono sostanzialmente due molecole d'acqua, quella con l'ossigeno 16 presente al 99,8% circa e quella con l'ossigeno 18 presente allo 0,2% circa. Ora, senza entrare troppo su questioni tecniche, è abbastanza intuitivo che l'ossigeno 16, essendo più leggero, evapora più facilmente dell'ossigeno 18. Questo significa che le molecole che compongono le nuvole sono ricche di ossigeno 16 rispetto alle percentuali globali. Inoltre l'ossigeno 18 precipita più facilmente dell'ossigeno 16 e quindi le nuvole diventano sempre più ricche di ossigeno 16. Dato che tipicamente le nuvole tendono a spostarsi verso nord, esse sono sempre più ricche di ossigeno 16 più si sale di latitudine. Ad esempio la neve che cade in Norvegia avrà meno ossigeno 18 della neve che cade in Italia. Ora seguite bene questo ragionamento. Durante i periodi caldi, diciamo quindi non nelle ere glaciali, il bilancio idrogeologico è tale da mantenere invariato il rapporto tra ossigeno 18 e ossigeno 16 in quanto tanta acqua evapora dagli oceani, tanta ne ritorna sotto forma di precipitazioni oppure attraverso i fiumi che riportano l'acqua ai mari. Diversa invece la situazione nei periodi freddi, cioè nelle fasi glaciali, poiché una considerevole frazione di acqua evaporata a basse latitudini raggiunge i poli dove si accumula sotto forma di precipitazione nevosa creando delle calotte polari sempre più voluminose e in continua espansione. A causa di questo accumulo di acqua ricca di ossigeno 16, perché abbiamo detto che la neve che cade ad alte latitudini è ricca di ossigeno 16 e questa è intrappolata nei poli, allora chiaramente la conseguenza è che la concentrazione negli oceani di ossigeno 16 diminuisce e i mari diventano sempre più ricchi di ossigeno 18. Poi nell'interglaciale successivo la fusione delle calotte permette il ritorno e il rimescolamento dell'acqua ricca di ossigeno 16 e la situazione torna come quella descritta sopra. Ora, questo ragionamento fila liscio, però la domanda che sorge spontanea è, sì, va bene, ma noi come facciamo a sapere quanto ossigeno 18 c'era negli oceani 10.000 anni fa, 100.000 anni fa, 10 milioni di anni fa? Dove possiamo ricavare queste informazioni e i rapporti isotopici del passato? Ebbene, esiste una classe di protozoi, degli animaletti diciamo, che prendono il nome di foraminiferi e che abitano i nostri mari da ben 500 milioni di anni. Li hanno invasi e tutt'oggi sono presenti. E questi animaletti durante la loro breve vita costruiscono dei gusci che sono fatti di carbonato di calcio. Il carbonato di calcio, formula CaCO3, è quell'ossigeno da dove lo prendono? Non lo prendono dall'ambiente in cui vivono, cioè dalle acque oceaniche. Giunti alla loro morte, i gusci si depositano sui fondali e vanno a formare spessi strati sedimentari di carbonato di calcio. E noi siamo in grado, in base alla profondità, di capire in che epoca si è formato quello strato. E quindi se noi andiamo a perforare questi fondali oceanici e estraiamo delle cosiddette carote, cioè dei cilindri che vanno giù in profondità anche per decine di metri. E tali sedimenti hanno un elevato numero di strati calcarei che conservano al loro interno il rapporto isotopico dell'ossigeno marino nel periodo in cui si sono formati. Seguendo tutto il discorso fin dall'inizio si giunge alla conclusione che i valori più alti di ossigeno 18 nei gusci di foraminiferi e quindi negli oceani corrispondono a periodi glaciali. Viceversa i valori bassi corrispondono a interglaciali. Più precisamente si calcola il rapporto isotopico o 18 fratto 16 nei gusci di foraminiferi e lo si compare con un rapporto di un campione standard secondo la formula indicata in alto. Se il risultato ottenuto è positivo vuol dire che c'è abbondanza di ossigeno 18 e quindi calotte polari molto estese. Se invece è negativo c'è poco ossigeno 18 e quindi le calotte polari erano ridotte. Un'altra analisi fondamentale per la ricostruzione del clima nel passato è quello condotto sulle carote di ghiaccio. Ad esempio i carotaggi in Antartide hanno permesso di ricavare informazioni fino a 800.000 anni fa. Se vi recate su una calotta polare potete notare che il primo strato è neve compattata e questa non può essere studiata perché è un materiale poroso che scambia l'aria con l'ambiente. Più sotto invece si trova il ghiaccio vero e proprio che è una colorazione bluastra e da questo livello in poi si può analizzare il contenuto e datare la carota che si è estratta. Fino a un certo livello è possibile distinguere i singoli strati di ghiaccio che rappresentano un anno di vita. Infatti ogni ciclo stagionale corrisponde una certa qualità e quantità di ghiaccio quindi hanno diverse colorazioni. Negli strati inferiori invece bisogna ricorrere ad altri metodi di datazione. Ad esempio si possono osservare le ceneri intrappolate nei ghiacci che provengono da polveri di eruzione vulcanica che si possono adattare. Le carote di ghiaccio possono essere studiate in diversi modi, ad esempio la conduttività elettrica fornisce importanti dati sulla sua composizione. L'acqua stessa che forma il ghiaccio viene analizzata in termini di contenuto isotopico, quindi come nei foraminiferi si può studiare la percentuale di ossigeno 18 presente nelle molecole d'acqua che permette di ricavare delle informazioni sulla temperatura degli oceani e dell'atmosfera in un certo periodo storico. Quindi è fondamentale in queste ricerche incrociare i dati per vedere che ci sia un nesso tra loro, che siano coerenti. Altri studi possono essere condotti studiando le bolle d'aria intrappolate all'interno del ghiaccio che racchiudono l'atmosfera in tempi passati, quindi possiamo misurare ad esempio le concentrazioni di anidride carbonica e metano che ci sono state nel passato e quindi risalire all'effetto serra. Oltre all'ossigeno un altro elemento fondamentale per lo studio del clima nel passato è il carbonio. Carbonio che come è noto costituisce l'elemento alla base della chimica organica, quindi tutte le molecole dei composti organici contengono carbonio e questo possiede tre isotopi principali. Quello prevalente è il carbonio 12 che è presente quasi al 99% ed è un isotopo stabile, poi c'è il carbonio 13, 1,11% anch'esso stabile e poi in quantità minime è presente il carbonio 14 che è instabile cioè radiattivo e anche questo ha notevoli applicazioni, anche se non tanto in campo climatico ma più nella datazione dei reperti. Ora concentriamoci sui due più diffusi che sono il carbonio 12 e il carbonio 13. Allora il carbonio 12 rappresenta l'elemento alla base del fenomeno della fotosintesi, cioè la fotosintesi predilige il carbonio 12 e questo comporta quindi una diminuzione in atmosfera di carbonio 12 a favore del carbonio 13. Quindi sul carbonio possono essere condotti degli studi simili a quelli fatti sull'ossigeno. Ora sarò più sintetico, possiamo dire che il carbonio può essere trovato in diverse forme, può essere presente all'interno degli idrocarburi, cioè dei combustibili fossili, oppure si può trovare nelle rocce calcare o ancora in bollicine d'aria intrappolate nei ghiacci che rappresentano, come abbiamo detto, l'atmosfera in epoche passate e confrontando le concentrazioni di carbonio 13 possiamo notare che esse sono molto diverse e da queste concentrazioni si può dedurre se l'attività fotosintetica nel passato era intensa oppure bassa. Quindi capire se ci sono stati dei climi aridi oppure molto freddi che hanno sfavorito la proliferazione delle piante oppure periodi di espansione fotosintetica. Informazioni sul clima nel passato possono anche essere ricavate dagli alberi, infatti come è noto gli alberi nel corso della loro vita accrescono progressivamente il proprio tronco e vi aggiungono un anello ogni anno, degli anelli di crescita che sono chiaramente distinguibili tra gli anelli vicini. È quindi possibile contando gli anelli calcolare l'età dell'albero. Con uno studio più approfondito degli anelli di crescita è possibile ricavare delle informazioni sull'andamento medio del clima nell'anno a cui risale ciascun anello. Il principio è molto semplice, se l'anello di accrescimento annuale è grande vuol dire che c'è stata alta attività vegetativa e quindi il clima poteva essere caldo, umido, favorevole. Se invece l'anello è stretto vuol dire che c'è stata scarsa attività vegetativa. Inoltre confrontando le serie degli anelli di alberi cresciuti in epoche differenti ma parzialmente sovrapposte è possibile ricostruire l'andamento del clima su intervalli di tempo anche molto superiori alla vita del singolo albero e se si hanno a disposizione abbastanza alberi, giustamente distanziati, si può andare indietro nel tempo di diverse migliaia di anni. Bene, nei primi due video abbiamo visto come è cambiato il clima nella Terra nel corso dei secoli, dei milioni di anni. Adesso abbiamo visto come lavorano i paleoclimatologi. Nel prossimo vediamo quali sono le cause che portano a questi cambiamenti climatici. Perché il clima cambia e distingueremo tra fattori naturali e fattori antropici, cioè causati dall'uomo. Ma per questo video è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro buona giornata.